Barichello ha passato Young che è il pilota malese debuttante Irvani intanto ai box con la Minardi, il problema è che questo pilota debuttante gira ben 6 secondi più lento degli altri, quindi può essere una chicane mobile come si suol dire in questi casi e proprio Young è fermo con la vettura di traverso riesce in qualche modo a ripartire e in uscita dalla prima di Lesmo Young che si vedeva arrivare da dietro la coppia Montoya e Michael Schumacher può aver fatto forse qualche errore fatto su di lui da Ron Dennis, qui vediamo l'errore di Alex Young proprio davanti a Montoya e Michael Schumacher, pericolosissimo, aveva ragione in pieno Ivan Capelli che più volte in questi giorni ha parlato di questo a volte le licenze vengono rilasciate a piloti che hanno munifici sponsor ma che hanno scarsa esperienza anzi forse nessuna esperienza pochi chilometri con pochezza di risultati nelle formule minori si arriva appunto ad avere la superlicenza girare in qualifica o nelle prove libere è un conto trovarsi poi in gara con Montoya e Michael Schumacher che stanno arrivando battagliando per la seconda e terza posizione lì si è distratto ovviamente perché è stato forse raggiunto dalle comunicazioni via radio e ha fatto l'errore proprio davanti al secondo e al terzo dei piloti appunto che stanno correndo dando grossissimi problemi e dando un grosso problema di pericolo per gli altri piloti grazie!